Beh, noi ci siamo liberati da un incubo e immagino che anche il Presidente Berlusconi si sia liberato da un incubo. Penso che sia un giorno di festa e dobbiamo gestirla con la serenità che ci è sempre appartenuto, col convincimento di avere ragione e di aver avuto ragione. Cinque anni di questo incubo non ce li restituisce nessuno e quindi sarà il caso di immaginare che la giustizia e i magistrati debbano prendere atto che cinque anni di sforzi, di spese, di drammatiche pagine dei giornali, di intercettazioni hanno portato a un esito favorevole. La Severino si dovrà riguardare secondo voi? L'unico particolare a concludo è che si è distrutta l'immagine di un uomo e oggi con questa festa e con la vostra presenza speriamo di riabilitarla. Cosa succede da oggi?